Tassa sull'occupazione del suolo alle stelle. Così salta il Pizza Village a Napoli. Incredibile ma vero, ma con un aumento di oltre il 300% deciso nella seduta del Consiglio Comunale di giovedì scorso, la tassa di occupazione del suolo pubblico rende impossibile l'allestimento della manifestazione. Rispetto ai circa 18.000 euro della scorsa edizione se ne andrebbero a pagare 60.000. Tutto questo a 20 giorni dalla iniziativa. L'aumento della tassa è dovuto ad un emendamento presentato da un consigliere del Partito Democratico che sta all'opposizione accolto tra la distrazione di tutti gli altri che avevano probabilmente già la testa al mare. Gli organizzatori hanno annunciato che con un aumento del 328% è impossibile reggere i costi preventivati perché sarebbe troppo tardi per rifare tutti i contratti con le 50 pizzerie e gli sponsor. Ora bisogna vedere se il Comune farà una deroga in questo caso visto le 300.000 presenze annuali e il grande incoming di appassionati che riempiono gli alberghi a settembre.